Come nasce la passione per la scrittura? La passione per la scrittura nasce da quando ero bambino. È stata coltivata nel tempo e devo dire che è la cosa che mi piace di più fare. Al di là degli impegni professionali che ho ogni giorno, il mio rifugio, il modo con cui io cerco di dare contezza e sostanza al mio modo di vivere e di essere. Ha scritto tanti racconti negli anni, alcuni sono stati anche premiati. Sì, devo dire che finora mi ero misurato sempre con i racconti. Questa è la prima volta che mi misuro con un romanzo, che è una cosa decisamente più impegnativa e che ha richiesto dei tempi un po' più lunghi e stirati. Appunto, Quel che resta è solo polvere. Un titolo interessante per un libro che parla di una vicenda che potrebbe accadere nel futuro. Sì, una vicenda che potrebbe accadere nel futuro, ovviamente in questo caso si tratta di un libro con una trama fantastica, nel senso che immagina un'Italia divisa dalla guerra di secessione con la Padania che dichiara l'indipendenza e Roma che a un certo punto decide di avviare il processo di riunificazione. Intorno a questa trama si muovono i personaggi, che sono tanti, e il protagonista. Il protagonista che è convinto di partecipare alla grande epopea nazionale, di partecipare a un secondo risorgimento. In realtà, una volta giunto oltre alla linea del Po, grazie alla raccomandazione dello zio onorevole, è un siciliano il protagonista, scoprirà che oltre alla linea del Po, quella che i media hanno dipinto come una marcia trionfale è in realtà soltanto un'esplosione incontrollata di violenza da entrambe le parti. Quindi non è un romanzo costruito sulla lotta tra buoni e cattivi, ma tra bene e male in ciascuno dei personaggi e nel protagonista del romanzo. A proposito della violenza, il libro è consigliato ad adulti. Perché questi tratti così violenti ha raccontato in queste pagine? Perché ho scelto di non usare mediazioni o filtri. La realtà viene descritta esattamente per com'è, anche se si tratta di una realtà fantastica. Nel senso che anche se il soggetto è ambientato nel futuro, in una guerra di secessione che in realtà non è mai esistita e che non so mai se accadrà, è pur sempre una guerra. Per cui non puoi aspettarti tanti elementi positivi, ma ho scelto di far parlare e muovere i personaggi esattamente come avrebbero fatto in una realtà di guerra. È un libro consigliato sotto l'ombrellone? Sì, però con la necessaria attenzione. C'è un libro che necessita di una lettura attenta, perché molti l'hanno paragonato a una sceneggiatura, non sbagliando. È stato definito anche un romanzo di formazione, un romanzo storico, anche se chiuderlo dentro dei generi letterari, secondo me un attimino lo vincolo eccessivamente. Ma lettura sotto l'ombrellone, purché lettura impegnata.